I presbiti della generazione X hanno 40 anni e vivono una vita molto più frenetica di quella delle generazioni precedenti. Sono multitasking, sempre di corsa, in un mondo sempre più connesso. Non vogliono essere rallentati nelle loro attività e nei loro movimenti dalle lenti progressive. Nonostante le più recenti tecnologie, i portatori continuano a dover muovere la testa costantemente per trovare la corretta zona di visione. I presbiti di oggi si aspettano fluidità e vogliono mantenere i propri ritmi di vita. Varilux X-Series definisce una visione nel volume da vicino. Non esiste più quindi una sola distanza da vicino, ma più distanze, tutte a portata delle braccia. Varilux X-Series consente di catturare ogni dettaglio del volume tra le braccia. E oltre. Perché tutto quello che conta è nel volume tra le tue braccia. La nuova tecnologia X-Tend reinventa una zona specifica, la visione nel volume da vicino. Nanoptics prende in considerazione un piano per una direzione di sguardo. Grazie alla tecnologia X-Tend, i microelementi Nanoptics vengono ottimizzati in gruppi da sette, per gestire per ogni direzione di sguardo più obiettivi. Tecnologia X-Tend. Espande la visione nel volume tra le braccia. Varilux X-Series è la nuova era per i presbuti, che non dovranno più muovere la testa, ma torneranno ad essere dinamici e spontanei nelle loro azioni. Grazie a tutti.